Era andato in trasferta il 21 marzo a causa del Covid, l'emergenza del coronavirus. Questa mattina il robot, tanto prezioso, è stato restituito al San Donato. Sì, onestamente oggi è una bella giornata, che questo strumento utile, indispensabile per tutta la popolazione, ritorna al San Donato. Il segno è evidente che un po' di allarme è rientrato, però non è rientrato tutto. Io invito tutta la cittadinanza a stare molto attenti, perché non è detto che l'è passato tutto. Non è che l'influenza che ci ha passata, ma sicuramente può darsi per il bene per tutta la popolazione. In questa occasione anche ringrazio tutta la cittadinanza di Arezzo, che ci ha dato al calcio, ci ha dato veramente fiducia e le ringrazio di nuovo. Oggi però è un punto di partenza per riorganizzare tutto il San Donato. Sì, è il giorno in cui il robot ritorna al San Donato, come avevamo già detto, si trattava di una situazione transitoria e come tutte le situazioni transitorie ha avuto un inizio e ha una fine. Per quanto riguarda voi chirurghi, che lo avete usato prima, dopo, che cosa vi apprestate a fare? Adesso è ritornato in casa, quindi potete spaziare lungo e largo. Ritorniamo a fare la nostra attività che abbiamo sempre fatto e per noi è di grande aiuto. Ci è stato di aiuto lo sfogo nel centro chirurgico toscano perché non abbiamo tralasciato pazienti oncologici e adesso continueremo la nostra attività qua in ospedale. Ci dicono che il San Donato abbia bisogno di un'organizzazione un po' più importante per dare risposte ancora più importanti. Lei l'aveva già un po' annunciato in un comunicato stampa che questo ospedale sarebbe stato potenziato. Ci può dire qualcosa di più? L'indicazione è che questo ospedale sarà sicuramente potenziato perché lo ha dimostrato anche durante la fase Covid. È un ospedale che ha dato risposte importanti in tutta la rete ospedaliera toscana. Il progetto di ristrutturazione e di riorganizzazione è all'attenzione dei professionisti perché voglio che sia un progetto corale e non che venga dall'alto. Il lavoro è a buon punto. Appena terminate le valutazioni anche dal punto di vista tecnico e impiantistico sicuramente la città e voi giornalisti sarete informati.